Un omicidio a sfondo passionale, una vicenda che come un mattoncino si aggiunge a quelle pagine di cronaca che nel comprensorio devono essere dimenticate in fretta. Ma a dimenticare non è riuscito Alfio Cristaldi, 43 anni, residente ad Aci Sant'Antonio, l'uomo ucciso che imbarba la logica non è riuscito a fermarsi nell'andare incontro al suo appuntamento con la morte. Sono bastati due colpi di fucile calibro 12 sparati alla schiena e alla nuca nell'abitazione dell'ex amante. Ad esploderli il marito dell'ex amante con la quale la donna era ritornata dopo aver concepito un bambino proprio con la vittima. Una storia ingarbugliata che adesso è gestita dagli investigatori che hanno molto da lavorare. Proscenio del fatto la frazione Fleri di Zafferano Etnea. L'uomo che lo ha ucciso è il marito della donna Sebastiano Leonardi, 44 anni, incensurato, che è stato trovato nell'abitazione dai carabinieri della compagnia di Giarre con il fucile ancora in mano. La vittima aveva avuto una relazione con la moglie dell'uomo dalla quale aveva avuto appunto un figlio di tre anni. La donna era poi tornata a vivere con il marito portando il bambino con sé. La gestione del piccolo su cui era intervenuto anche il tribunale, stabilendo tempi e modi degli incontri e soprattutto il diniego della donna a riallacciare la relazione, sarebbero stati al centro di numerosi litigi. Cristaldi voleva vederlo, pare nonostante non fosse il turno stabilito dal tribunale. L'ex amante e la cognata della donna hanno cercato di calmarlo nel cortile di casa. Quando Leonardi ha imbracciato un fucile da caccia legalmente detenuto è esploso due colpi, uccidendolo sul colpo. La donna, assieme alla sorella dell'omicida, presente ai fatti, resasi conto dell'accaduto, ha avvertito i carabinieri della compagnia di Giarre. Lo hanno trovato così ancora con l'arma in mano, fermo, in silenzio e in evidente stato di shock. Dopo averlo disarmato lo hanno condotto in caserma per essere interrogato. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta.